Festival segreti d'autore, una serata molto particolare dedicata alla legalità, dove l'arte però e la bellezza sono al centro, anche perché se si parla di arte e bellezza si parla di legalità. Come è andata? Il Festival è nato otto anni fa e riguarda le arti, la legalità, le scienze, l'ambiente. Come lei diceva giustamente, i fenomeni sono intimamente collegati. La bellezza invita fondamentalmente al concetto di armonia. Il concetto di armonia è in definitiva un accordo tra le parti. Non si può avere una natura armonica senza un accordo tra le parti, senza un rispetto reciproco delle parti impegnate. Non si ha arte senza un accordo tra le parti, soprattutto quando si parla di arti fondate su una collegialità, come il teatro, come il cinema, come la musica, come le grandi orchestre. Forse le orchestre sono la metafora più straordinaria, come dice anche Riccardo Muti, di una democrazia, perché ciascuno deve suonare alla sua parte e tutte queste singole, talvolta piccole, frammentarie parti concorrono alla realizzazione di un unico sinfonico. Il festival ha puntato da sempre su questi temi. Abbiamo collaborato con Lega Ambiente, con Addio Pizzo, con Franco Roberti fin da quando è nato, perché riteniamo che il controllo della propria responsabilità, delle responsabilità altrui, sui territori, sui processi civili sia un dato fondamentale. Cioè riteniamo che non ci sia etica che sia scollegata dall'estetica o estetica che sia scollegata dall'etica. In particolare per ciò che concerne stasera è un punto che arriva però in un percorso, quello della memoria, quello che poi riguarda anche Falcone, Borsellino, la legalità. Per lei in particolare come artista, come drammaturgo, attore, regista, lei ha fatto tanto. Ecco, ci vuole raccontare brevemente tutto il percorso? È brevemente difficile, ma diciamo proverò un bignami della vicenda. Nel 2003 io scrissi un diario immaginario della vita di Paolo Borsellino dopo aver a lungo studiato. Incontrai Agnese Borsellino a Palermo, le sottoposi Paolo Borsellino essendo stato, che era una ricostruzione non soltanto degli effetti thriller della vita di Borsellino, che spesso ha avuto pregevole rappresentazioni cinematografiche e televisive, talvolta anche però organizzate sul filo del tritolo, sul filo dell'esplosione, sul filo della morte, ciò che fa gli ingredienti cinematografici di un certo tipo di arte. In Paolo Borsellino essendo stato c'era invece la ricostruzione intima della vita di Borsellino, con domande anche elementari. Perché quest'uomo aveva chiamato Manfredi un figlio? E non era un nome che ricorreva nella sua famiglia. Perché quest'uomo aveva chiamato Fiammetta una figlia? Perché quest'uomo aveva la capacità di recarsi in una parrocchia di Palermo ogni mattina documentandosi su quali fossero i bisognosi di quel quartiere, e allargendo danaro personale molto spesso, non è un segreto per nessuno. Dunque Paolo Borsellino ricostruisce in Paolo Borsellino, essendo stato la sua vita di magistrato e di uomo. Lo fa però su una linea di confine molto particolare. Si domanda, cioè, se per caso non sia già morto e sta guardando la sua vita dall'angolo della morte, o se invece per caso non sia ancora vivo per qualche istante o per un decimo di secondo e stia avvicinandosi alla morte con una lucidità tipica dell'ultimo momento. Da questa postazione ricostruisce, ricostruisce e in maniera lucida coniuga la sua vita di uomo, di siciliano, di uomo profondamente appassionato a un processo di conoscenza. Falcone, Borsellino, Chinnici, sono uomini che hanno amato tutto della loro terra. Questo è il vero messaggio. Sono antropologi, sono psicanalisti volontari e involontari di questo mondo. Loro consideravano la mafia un prodotto e dunque considerandola un prodotto sapevano che la mafia era nata da qualcosa. Da quali processi, da quanti processi, essi stessi, peraltro, essendo nati entrambi al quartiere della Calza, avevano giocato da adolescenti, da bambini, con figli di mafiosi, si erano fatti addirittura un'idea affascinante della mafia e questo Borsellino stesso lo dice molte volte. Naturalmente poi, appartenendo a un mondo che li orienta verso la magistratura, fanno un'altra strada, una meravigliosa strada. C'è quella frase bella di Borsellino che dice Palermo non mi piaceva, per questo ho imparato ad amarla, perché il vero amore consiste nell'amare quello che non ci piace per poterlo cambiare. Penso che questa frase e certi suoi atti, l'idea, per esempio, di avvicinare molto i giovani, che abbiamo visto nella serata che abbiamo appena svolto, era un'idea forte di Rocco Chinnici, cioè loro dicevano sì le forze di polizia, sì il contrasto, l'azione della magistratura, ma la mafia è squisitamente un problema culturale. Per esempio, il pregiudizio, molte volte ho riflettuto su questo, che la mafia sia un portato del sud, è in realtà un'altra inesattezza. Se voi, per esempio, leggete i Promessi Sposi, trovate un capitolo dove ci sono due cattivi soggetti che aspettano un prete su un ponte e quando si avvicinano a quel prete, gli dicono questo matrimonio non sa da fare, questa è la frase che gli italiani ricordano, non ricordano come continua però, in genere, o chi lo farà non se ne pentirà, perché non ne avrà il tempo. Lei ci intende, signor curato, uomo avvisato. Manzoni dice, erano questi soggetti assai diffusi nelle terre del Comasco. Allora, diciamo, quali sono veramente i significati di tutto ciò? I significati sono le appartenenze, i feudalesimi. Noi abbiamo fatto più fatica a incoraggiare la cultura al sud, storicamente. Gli intellettuali del sud erano considerati dei disturbatori. Mentre nel Cinquecento, per strada a Firenze, avresti potuto incontrare Leonardo, il Perugino o Botticelli, in Calabria, mediamente, incontravi un accoltellatore. Questo dipende dal fatto che Firenze, Verona, Mantua, Ferrara, Milano, quindi, come dire, estensi, medici della scala, organizzano esperimenti di democrazia. Vaghi, rudimentali, ma organizzano esperimenti di democrazia. E, in maniera anche molto machiavellica, in molti casi, però considerano l'arte un volano. Per Napoli e tutto quanto il sud, l'arte è stata spesso considerata una compagine di disturbatori. Ogni volta che c'era un Gian Battista Vico o un Benedetto Croce che si affacciava all'orizzonte, erano dei disturbatori. Tant'è che gli esodi, che sono anche necessità strutturale, ma sono infiniti, l'esodo di Edoardo, l'esodo di La Capria, di Patroni Griffi, di Francesco Rosi, di Riccardo Muti, tutti via fondamentalmente. E questo non aiuta, perché l'arte è un sistema di conoscenze e di sensibilizzazione che funziona anche da grande cintura immunitaria rispetto alle tentazioni non etiche.